Ducati è un'azienda con una storia importante nel passato, nasce nel 1926, quindi tanta passione, ha consentito di arrivare fino ai giorni nostri dove l'azienda è sicuramente nel momento migliore della propria storia, vendiamo oltre 50.000 moto all'anno, competiamo sia nei campionati MotoGP che Superbike, un'azienda che è basata su alcuni valori fondamentali che sono style, sophistication, performance e anche trust. Ci troviamo in un momento di forte trasformazione, di altissima competizione e in un mercato che impone standard di altissimo livello. Inoltre il nostro business richiede sempre più flessibilità e velocità di risposta con le soluzioni tecnologiche che proponiamo per accelerare i tempi di sviluppo del prodotto, nonché di avere un time to market molto stretto. Noi avevamo un'infrastruttura legacy configurato su un'impostazione standard senza un sito remoto di disaster recovery e con sistemi monoliti. Data center enterprise per noi vuol dire il connubio perfetto tra un data center su private cloud, la possibilità di avere servizi scalabili come un public cloud ma con la sicurezza di un servizio personalizzato. Un servizio personalizzato che rispetta non solo i nostri valori, le nostre esigenze tecnologiche ma rispetta anche i tempi strettissimi del demand che ci arriva dal business. Nello specifico un team di solution architect di Aruba Enterprise ha disegnato una soluzione di hybrid cloud basata su due siti, il sito principale è il sito di Borgo Panigale e il sito secondario è il Global Cloud Data Center di Aruba. Sfruttando un backbone a 10 gigabit ridondato che interconnette i due siti è stato possibile estendere il data center di Borgo Panigale. È con questo che intendiamo New Generation Data Center. In caso di necessità di creare un ambiente di test piuttosto che avviare progetti innovativi con tempi molto stretti potevamo attingere, possiamo attingere alle risorse del data center enterprise remoto in modo flessibile e totalmente autonomo. La grande sfida per il futuro è la corretta gestione del dato in termini di sicurezza, in termini di velocità di rilascio sul mercato. Da questo punto di vista essere andati sul cloud ci ha consentito di velocizzare gli sviluppi e di diventare flessibili. Sempre di più ci consentirà di essere pronti alle nuove sfide del futuro. Credo che sia il risultato veramente il frutto di questo grande lavoro sinergico. Le competenze sono state messe a frattore comune e penso che oggi ci possiamo a buon titolo freggiare di una struttura molto agile che può essere scalata e che quindi dà a Ducati in questo momento una bellissima piattaforma di crescita per un progetto che è partito e che sta continuando.